bai il titolo test s ok mi è arrivata la notifica ci siamo ci siamo io se c'è il c'è quanti lei ti ha la viata a si eccola e sei nel privato perfetto fai mi skin vabbè tu hai comprato quella di ninja noi facciamo serri privati noi facciamo serri privati scuola ok vabbè facciamo io volevo farci la ricetta eh ma se non c'è l'esercizio se voi possiamo farci ok allora e eh devi mettere singolo allora ti dico qual è la password password quale mettiamo? mettiamo abcdz abcdz vai abcdz va abcdz 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 stream snapperare se lo fai su un bm sicuramente non perchè bm ma dov'è? dove ne lo so mi chiedo perchè un 200 passaggio si se te lo faccio si se te lo faccio ma c'è chi? buttati buttati andiamo qua buttati però vediamo se c'è cazzo non c'è vabbè io te l'ho detto vabbè dai non importa l'ama this is lama i don't trovare me più la mucina qui? vabbè? qui? 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti